ok 24 agosto 2010 estate siamo noi noi questa è fabiana e arriva al lago di ledro qui c'è il socio fondatore di fabiana spero non ha fondatore un fondatore esatto ho capito che sarà impurato al fondo c'è l'alessandra che prende il sole e non si accorge di niente ale fa ciao di più ecco ciao meno male che fabiana c'è esatto meno male fabiana c'è ok adesso il prossimo video sarà la messa in napoli questo mezzo ciao a tutti